È possibile che questo possa dipendere dal fatto che ci sono attività che stanno chiudendo perché non hanno visto un soldo quando abbiamo avuto un Presidente del Consiglio che era andato in televisione a dire che ci sarebbe stata una potenza di fuoco mai vista con il decreto liquidità che effettivamente mai vista era, perché infatti non è stata vista esattamente da nessuno? È possibile che sia questo il vero problema della nazione e non noi che cerchiamo di dare voce a quel dissenso, a quel malcontento, a quelle difficoltà e che vuol dire che non possiamo scendere in piazza? Il 2 giugno è anche la festa mia, è anche la festa di Giorgia Meloni e di tutti gli italiani che la pensano come noi dobbiamo stare in silenzio, perché? Per chi? Se il PD o la sinistra volevano scendere in piazza potevano farlo tranquillamente il 2 giugno, che noi lo volevamo impedire a qualcuno sono loro che lo vogliono impedire a noi, forse loro hanno difficoltà a starci in mezzo alla strada a starci in mezzo alla gente, ma noi questa difficoltà non l'abbiamo e il 2 giugno quello che volevamo fare, che abbiamo fatto, perché lo abbiamo detto in tutti i modi è proprio rappresentare quello che le dicevo prima noi non ci stiamo al racconto di un'Italia spacciata noi sappiamo che ci sono cose che si possono fare per risollevare questa nazione anche in un momento come questo la gente non è arrabbiata perché c'è stato il Covid non è arrabbiata perché c'è la crisi o perché ci sono le difficoltà è arrabbiata perché ci sono le ingiustizie è arrabbiata perché ha un governo che oggi ha dichiarato che metterà altri 70 milioni di euro sul bonus per comprare i monopattini mentre non hai soldi per fare la spesa mentre perde il posto di lavoro e c'è pure qualcuno che ti viene a spiegare che il monopattino ti serve per andare a lavorare ma da dove? ma ci parlano con i pendolari queste persone grazie a tutti